ciao a tutti ho fatto una base anti ingiallimento ho messo due passate dell'803 poi prendo il fucsia e una goccina nella vaschetta inizio a fare dei papaveri che ci sono prendo il colore nero sempre una cucina prendo il colore giallo una cucina ho messo il top coat e questo è il risultato ciao e alla prossima